Intesa San Paolo e Figurine Panini presentano Le cose che non sapevi di voler sapere sulle figurine panini Ognuno di noi indubbiamente ha tanti ricordi e quando scorre l'album delle figurine è ovvio che gli vengono in mente tanti giocatori, tanti momenti, tante partite. Io devo essere sincero, proprio sfogliando, non mi ricordavo che Gennaro Gattuso, ora tecnico del Napoli, era stato anche alla Salernitana e mi ha fatto impressione vederlo così giovane e soprattutto con quella maglietta ma chiaramente ero io che non ricordavo Gennaro Gattuso che debuttò nel Perugia sia in B che in A, poi l'esperienza in Scozia con i Glasgow Rangers e quindi un anno alla Salernitana, una Salernitana che poi retrocesse e Gattuso però era uno dei giocatori migliori che si mise in mostra quella Salernitana allenata da Delio Rossi e poi affidata ad Oddo dove c'erano però giocatori come Di Michele e Vannucchi insomma era una buona squadra che però non è riuscita a salvarsi Gennaro Gattuso che poi dopo la Salernitana prodò al Milan sappiamo i tanti successi, il suo soprannome Ringhio ci ricorda perfettamente quelle che erano le sue caratteristiche in campo e oggi forse in maniera errata pensiamo alla grinta anche come allenatore, sicuramente ne ha anche da tecnico ma anche altre qualità tecniche e tattiche che ha messo in mostra con il Milan e ora lo sta facendo con il Napoli Grazie a tutti